Con Rondine un imprenditore ha la possibilità di ripartire dalle radici con dei principi che sicuramente possono giovare all'organizzazione di tutta l'azienda. Le aziende che sono labor intensivi, che sono ricche di persone che devono dialogare e risolvere dei conflitti che sono il quotidiano, trovano in questo modello in Rondine la possibilità davvero di ripensarsi e di poter così contribuire a un senso armonico di impresa.